Amici di InterTV.it, bentornati alla video rassegna martedì 16 giugno. Partiamo subito dalla Gazzetta dello Sport, tante notizie di mercato in taglio alto, le mosse dei campioni d'Italia Juve Mani su Witzel. E poi Zaza e Berardi ci siamo, sprint per il centrocampista belga e ora si tratta col Sassuolo per le punte. Giovedì intanto vertice per Tevez, la Juve vuole sapere. Intanto Messi all'assalto del muro Godin per quanto riguarda la Coppa America, lo show di Neymar conquista tutti, Brasile quindi vince la prima partita 2-1 con Neymar e si gioca adesso Argentina. Uruguay intanto comincia l'era Mijajlovic, Milan attacco totale, questa è la notizia principale della Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico oggi a Milanello mentre si lavora per affiancare Ibra e Luis Adriano a Jackson Martinez e quindi il Milan che rilancia ancora su Ibraimovic. Intanto l'articolo di fondo in prima pagina di Alessandro De Calò è con Ney il calcio e arte, anche il gioco di parole tra Orrei che era Pelé e Ney che è il diminutivo di Neymar. Intanto l'Italia gioca l'amichevole con il Portogallo, amichevole ma non troppo, battere il Portogallo conta per il Mondiale a Ginevra alle ore 20 e 30. Poi l'intervista a Zdreck Zeman, ciao Serie A a Lugano, cerco un'altra isola felice quindi gli auguriamo il meglio. Mercato, le trattative del giorno, c'è l'Inter anche qui in primo piano, doppio derby per Condogbia e per Imbula e resta in pressing su Salah. Sembra un po' la filastrocca, ma in realtà poi nella giornata di mercato vi abbiamo un po' spiegato le evoluzioni delle ultime ore, degli ultimi anche così proprio minuti perché è stata una giornata molto molto vivace sul mercato. Il Napoli alza l'offerta per Allan, ora è più vicino, Bologna, Idea, Pelé, Panchine, oggi Giampaolo sbarca ad Empoli. Poi progetto finale per lo stadio, parola di Pallotta a Roma col nuovo stadio, la Roma diventerà un club mondiale e quindi questa è la promessa di James Pallotta. Chaos Rugby lo troveremo in tutte le prime pagine, Coppa del Mondo scoppia la guerra azzurri federazione per i compensi e poi di Biaggio in Gazzetta lancia l'Under 21, scaliamo l'Europeo e naturalmente dopo la Coppa America è l'evento più importante di calcio giocato. Tanti interisti da Bardi, Biraghi, Bianchetti, lo stesso Crisetic e Benassi, per cui c'è ancora il rischio boost e ne parleremo ancora. Corriere dello Sport, taglio alto, partiamo sempre dal taglio alto con la Juventus e la Roma, Mandzukic, Juve sì, vertice Boca Tevez e quindi potrebbe essere lui un nome per la Juventus in attacco. Roma, ecco lo stadio e il blitz a Monte Carlo. Per quanto riguarda il Milan e ora Arda Turan, quindi si passa da Jackson Martinez, da Ibrahimovic, ora Arda Turan, non ci sono però naturalmente ancora le ufficialità, c'è anche il Turco dell'Atletico per Mijelovic, contatto con il manager, trattativa avviata, atteso per oggi l'incontro a Doha con lo Sheikho per Ibra e qui in effetti questo sarà un incontro importante tra Rayola Ibrahimovic, lo stesso proprietario del Paris Saint Germain. Inter su Imboulat e Condobbiat e derby di mercato e quindi si dice che anche l'Inter non ha mollato la pista Condobbiat, così come il Milan si sta inserendo su Giannelli Imboulat dell'Olympique Marsiglia. Per quanto riguarda la nazionale, a Ginevra Portogallo senza CR7 ma Conte non molla, il CT non esistono amichevoli, penso solo a vincere Immobile in avanti, tra l'altro giocherà anche Ranocchia, quasi certamente stavolta da titolare. Anche qui il caos al raduno premondiale per quanto riguarda il rugby, la rivolta del rugby, azzurri sciopero, niente accordo sui premi, giocatori a casa. Intervista a Federica Pellegrini, cambio e vado ancora più forte per quanto riguarda invece la Coppa America, il riferimento è ancora a Neymar, dal Barça 12 milioni a stagione, offerto il raddoppio dello stipendio, pronto un contratto d'oro fino al 2020. E questo è il Corriere dello Sport, prima pagina invece del giornale torinese, tutto sport, allarme Conte, cerco bomber, stasera Italia-Portogallo a Ginevra, il CT spenti, anzi scusate, più che spenti, spariti i centravanti e quindi Conte lancia l'allarme. Centrocampo Toro, acqua più vesino, anche il gioco di parole, sogno primavera, c'è la finale infatti tra il Torino e la Lazio nel torneo primavera. Intanto non solo Averar, Ekdal e Cigarini, ma appunto acqua e vesino per il centrocampo del Torino. Juve e Oscar, Milan e Ibra, Juve e Oscar, 25 milioni per Allegri, un altro regalo per dare l'assalto al brasiliano, prima Marotta deve vendere, Manzuchic ancora passi avanti, vertice con il Monaco, nel Mirino, Martial e Fabinho, quindi la difesa così del Monaco, i giovani del Monaco, oltre a Manzuchic e al trequartista. Prima richiesta di Allegri, si parlava di Witzel, qui si parla di Oscar, comunque di trequartisti. Per quanto riguarda Milan e Ibra, il Bitz in Qatar, Blitz che dovrebbe così essere convincente sul proprietario di Ibrahimovic, che non vorrebbe disfarsi così a un anno dalla scadenza di Ibrahimovic, io gioco solo dove mi diverto, dice Ibra ad ascoltare Zlatan, la Champions League nelle sue scelte non conta. Assieme a Raio la sta trattando con lo Sheikko per vestire la maglia rosso-nera. Vediamo altre notizie di mercato, tra cui l'Inter anche tra le prime. Condobbià svolta Inter, addirittura tutto sport, da il Milan superato per Condobbià e l'Inter che sarebbe vicinissima all'acquisto del primo obiettivo di centrocampo. Il Bologna su Rondon, che abbiamo anche visto in Coppa America svettare su Murillo, in Venezuela contro Colombia, Samp asse col Chelsea da Zuma a Zivkovic incontro a Roma e poi ancora le buste, ultime buste il 25 giugno, così cambia il mercato e ripetiamo l'Inter deve risolvere la comproprietà con Benassi. Il Torino valuta due la metà, l'Inter quattro si potrebbe raggiungere un accordo a metà. Intanto in Coppa America che in numeri per Neymar, contratto di 12 milioni anche su tutto sport, il rugby d'Italia si rompe sui premi, niente accordo economico legato ai risultati, gli azzurri lasciano il ritiro costretti ad andarcene. Queste sono le prime pagine dei giornali di martedì 16 giugno per la video rassegna è tutto, un saluto da Michele Borrelli, rimanete sempre con www.intertv.it con le video news, le notizie, la video rassegna e tutti gli aggiornamenti con naturalmente il talk della sera Obiettivo Inter dalle 23 alle 24. Grazie a tutti.